ti ricordo di premere il tasto iscriviti, attivare la campanella, lasciare un mi piace e guardare il video fino alla fine. Grazie. Silvia Toffanin e Paolo Bonolis, lei leggermente imbarazzata ma divertita, e lui schietto e provocatore, hanno reso l'intervista del conduttore a Verissimo un piccolo cult. Tra il ritorno di Ciao Darwin e l'affetto per i nipotini di nonno Paolo, c'è stato anche spazio per parlare della fine del matrimonio di Bonolis con Sonia Bruganelli, soprattutto perché la stessa Bruganelli l'aveva raccontata nel salotto di Toffanin. Dopo aver mostrato a Bonolis un estratto dell'intervista alla ex moglie, la conduttrice ha chiesto la sua versione dei fatti. Ma la versione l'ha detta lei, ha risposto il conduttore, sottolineando che la vita è fatta di cambiamenti e di cose che rimangono, e ci si adatta e si adopera di conseguenza. Toffanin ha domandato se Bonolis avesse trovato un nuovo equilibrio. Finché uno non cade, eh? Hai visto? Ha risposto Bonolis, aggiungendo che è sempre lì, accanto a lei. La conversazione ha proseguito con Bonolis, sottolineando che nella vita si considerano sia le cose dell'anima che del corpo. Toffanin, imbarazzata ma sorridente, ha chiesto se Bonolis facesse ancora l'amore con la sua compagna. La risposta pronta di Toffanin è stata un sì, rivelando così un piccolo dettaglio della sua vita con il compagno Pier Silvio Berlusconi. Grazie. 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 Grazie.